... ... ... ... ... Bala raga, non capita spesso di fare un video del genere, almeno io non l'ho mai fatti, non sono tipo, però ho postato una foto su Instagram e questa foto la gente è esplosa, hanno iniziato a fare investigazioni, mi hanno chiesto dove l'hai preso, che cos'è, ma è meraviglioso, potrebbe cambiare la mia vita per sempre e chi sono io per privarvi di qualcosa di bellissimo. Quindi oggi vediamo l'oggetto che vi cambierà la vita, sono sicuro, è quasi meglio dell'acqua, però non muori se non ce l'hai, diciamo è tipo un divano, però è più, no, non ci sono parole per descrivere quanto possa essere utile questa cosa, soprattutto per chi fa uso nella vita quotidiana di cellulari e tablet per vedere cosine, come voi vedete, io sono sicuro, la maggior parte di voi, il 60 per 100 circa, vede i miei video da cellulare, vede tutti i video da cellulare, sente la musica da cellulare, fa tutto da cellulare, oppure se hanno un tablettino, se guardano il filmetto, bello, su Netflix c'è un problema, il problema è il seguente, mi voglio vedere un video che non dura un minuto e mezzo, mi metto così con il telefono, poi mi metto così con il telefono, poi mi metto così, poi mi metto così, poi mi metto così, ma so così, provo queste cose, mi cambiano le cose addosso, cose del genere, ecco. Esatto, il telefono, come i tablett, dopo un po' ti sfondano la mano e tu ti rompi il cazzo e inizi ad assumere pose scomodissime pur di vedere quello che stai a vedere, il tuo anime, il tuo video preferito. Ed è qui che entra in gioco l'oggetto della meraviglia, l'avevo postato su Instagram, il mio Instagram è marcuscron underscore yt, quindi andate a vedere, tra l'altro trovate anche un sacco di cibo, e pelati e shifty mine, l'oggetto meraviglioso, vi ho tenuto troppo sulle spine, è questo, no ho sbagliato, scusate ho sbagliato, l'oggetto in questione è questo, il braccino del potere, i migliori 13 euro della mia vita, migliori di qualsiasi, 13 euro anche se avessi preso due pizze sarebbe mille volte meglio questo, e io adoro la pizza. Le caratteristiche di questo braccino quali sono? Abbiamo una cosa che poi vi faccio vedere che serve per attaccarlo, abbiamo questa parte che è dura ma facilmente possiamo piegarla come vogliamo, e infine c'è una parte più morbida che possiamo piegare e farci tutti i giochini del cacchio che ci pare. Alla fine c'è questo ciccio ciccio che noi possiamo tirare, si apre, prende qualsiasi cellulare, qualsiasi tablet, qui a bucato, quindi se state a casa e non volete svegliare la gente di notte potete mettervi le cuffie, potete mettere il caricatore, è davvero strafico, ed è facilissimo da mettere anche da soli, fai così, tac. Se temete per il vostro telefono nuovo vi faccio io il testing della, non lo so, della resistenza, e ve lo stavo dando in faccia, è sicuro. Ed infine abbiamo il braccetto coso, non lo so, dove si attacca, qui abbiamo una cosa di plastica in modo che faccia attrito, in modo che non si separi e ci basta girare e questo qui si stringe, adesso in questo caso mi sta stringendo il dito, fa abbastanza male, quindi lo libero. Quindi siete come me che state sul divano, volete stare seduti perché vi piace rilassare, vi mettete le gambe avanti, però non vi va di stare sdraiati e non vi va ovviamente di guardare verso il basso del cellulare o tenere le mani così. Fatto. Signori, io adesso giro il braccino, me lo rivolgo verso di me, adesso ve lo storco un pochino per farvi vedere e mi guardo quello che mi pare. E sto così, sto così, è bellissimo. Questo significa che se avete un qualsiasi comodino, mensola, cazzo ne so, vicino al letto, potete fare la stessa identica cosa. Io ho un piccolo comodino su cui lo attacco e ci arriva quasi a metà letto perché effettivamente è abbastanza lungo tutto, bello proteso, e io e Shifty ci mettiamo un pochino vicini vicini e ci guardiamo il coso senza rompermi il cazzo. Una volta, tanto il dolore alla mano, mi è cascato il telefono dentro l'occhio di Shifty e lei è venuto l'occhio nero, quindi signori, wow. Noi vi facciamo vedere il letto perché era da rifare e non c'è andata di rifarlo. Ma le applicazioni non finiscono qui. Un'idea. Questa era pessima, scusate. Conosco molte persone che trovano nel bagno, nel momento dell'andar di corpo, un momento di accoglimento, un momento in cui devono starci molto tempo, un po' per problemi alcuni o un po' per piacere altri. E molte persone si portano una lettura, o un filmetto, o si vedono un video. Braccino. Vi piace cucinare, ma la cucina richiede lunghi tempi d'attesa in cui dovete mantecare, dovete circonnavigare le cose? Nessun problema. Braccino. Fate live su Instagram o su Facebook per il vostro pubblico? Nessun problema. Blue screen, sedia comoda e braccino. Bella a tutti ragazzi! Insomma, Braccino fa per tutti noi. E voglio precisare che nessuno mi ha pagato, ma pensavo di fare un video divertente. Ovviamente il link è in descrizione per acquistare sto coso che costa 13 euro ed è comodo. Ed è comodo, l'importante è non dare il telefono addosso alla telecamera, se no si crea un danno. Insomma ragazzotti, spero che il video vi sia piaciuto. Io, Braccino e Pushy vi salutiamo e intanto ci vediamo con un filmetto bella. Ciao!